Come Comitato dei diritti umani oggi il subcommittee della Commissione Affari Esteri si è occupata di questo problema ascoltando le persone che avete ascoltato e cercando di raccogliere quante più notizie e informazioni su una situazione di tragedia nella quale abbiamo pochissime notizie e informazioni. Diciamo pure che lo stato dell'arte non è né confortevole né onorevole per quello che noi con orgoglio chiamiamo il mondo libero perché non c'è dubbio che il mondo libero ha scelto di avere meno grane, meno problemi ignorando aree di situazioni di vita terrificante nel mondo come quella che i nostri ospiti di oggi ci stanno descrivendo, ci hanno descritto nella Corea del Nord. Il partito radicale in occasione dell'audizione presso il Comitato per i diritti umani della Camera di due rifugiati politici nordcoreani ha organizzato nella sala stampa di Montecitorio una conferenza sulla situazione umanitaria in Corea del Nord. Il deputato radicale Matteo Meccacci, presidente della Commissione Democrazia e Diritti Umani dell'Assemblea Parlamentare OSCE ha introdotto le drammatiche testimonianze dei partecipanti. E' intervenuto nel corso dell'evento anche Furio Colombo, presidente del Comitato, da sempre sensibile alle tematiche umanitarie. Onorevole, oggi nel corso della conferenza stampa avete parlato di una delle realtà più misteriose dell'intero pianeta quella nordcoreana con delle testimonianze drammatiche. Il Parlamento italiano si sta occupando della questione dei rifugiati. Che cosa può fare la comunità internazionale di concreto? Io credo che innanzitutto sia importante anche solo far conoscere una realtà come appunto quella della Corea del Nord che sembra incredibile perché vi sono persone che ancora vivono nel 2012 in campi di concentramento si parla di circa 200.000 persone, vi è una chiusura totale anche alla possibilità per la stragrande maggioranza dei cittadini della Corea del Nord di avere contatti con l'esterno e vi è una sostanziale tolleranza da parte dei paesi vicini, a partire dalla Cina ma anche da parte della comunità internazionale rispetto ad una realtà che vede appunto milioni di persone vivere sotto un regime. Quindi innanzitutto fare informazione, far conoscere queste storie incredibili per non dimenticare che gli uomini, secondo quelle che sono le leggi internazionali, sono uguali e hanno gli stessi diritti e le stesse aspirazioni. E non pensare che ci siano appunto persone di seconda categoria che possiamo dimenticare appunto in qualche campo di lavoro forzato nel territorio della Corea del Nord. A suo avviso con la morte del dittatore Kim Jong-il e la successione si sono aperti degli spiragli? Sicuramente vi è una situazione che ha bisogno di stabilizzarsi perché la nuova figura, il nuovo leader del paese, il figlio di Kim Jong-il evidentemente non ha ancora l'esperienza e la capacità di contrarre comunque un sistema di potere talmente pervasivo che deve naturalmente aver bisogno del supporto di altri attori. E il fatto che vi sia stato pochi giorni fa un accordo tra il governo della Corea del Nord con gli Stati Uniti per la sospensione del programma nucleare e per l'invio da parte degli Stati Uniti di aiuti alimentari segnalano sicuramente un momento in cui quel governo non si trova in una posizione di forza. Quindi quello che noi chiediamo anche come Parlamento italiano è che il governo del nostro paese che è stato il primo nel mondo occidentale ad avere rapporti bilaterali non dimentichi accanto ai rapporti diplomatici, ai rapporti ufficiali che vi sono milioni di persone che desiderano che quel paese rispetti i loro diritti fondamentali perché dimenticarlo lì significa anche che gli si dà poca importanza a casa nostra e questo è pericoloso per tutti.